Mi sembra inevitabile ringraziare di essere stato selezionato, di essere stato invitato, di essere stato scelto per venire qui. Innanzitutto il termine buono che viene preso in considerazione, viene oggettivato, è difficilissimo oggettivarlo. Quindi il lavoro che si fa di solito è quello di tirarlo fuori, in qualche modo affrancarlo da una percezione epidermica del mi piace e non mi piace, oppure dalla battuta solita che si fa di solito quando si dice com'è questo vino, è una questione di gusti, e quindi evitare che questa epidermicità prevalga sulla riflessione, sulla sensibilità, e nello stesso tempo però non perdere di vista l'elemento centrale, e cioè il recupero della soggettività. Perché se guardiamo alla storia della critica sul vino, della scuola di degustazione sul vino degli ultimi 30 anni, ci accorgiamo che, insomma, si è cercato il più possibile di oggettivare il responso. Questo ha svuotato di contenuti il senso del vino buono e ha svuotato di contenuti anche la critica, e questo sembra incredibile, potreste non crederci, ma piano piano ha cominciato a svuotare di contenuti anche il vino stesso, e cioè a un certo punto i vini hanno piano piano cominciato ad assomigliare alle persone che li assaggiavano e alle medie che prendevano, e di conseguenza col tempo si è persa originalità, si è persa imprevedibilità, si è persa irregolarità, che sono elementi centrali nella qualità di un vino. Vedete, il vino si fa ancora all'aperto, fino a prova contraria, e il fatto di essere realizzato all'aperto, e quindi che la stragrande maggioranza del lavoro poi si faccia fuori, espone il frutto che poi noi trasformeremo a una variabilità che, per esempio, non è presa in considerazione in altri contesti artigianali ed industriali, dove invece col tempo ci si avvicina sempre a un maggiore controllo. Allora, come si può raccontare il vino buono? Come si può narrare il vino buono? Come si può condividere il concetto del vino buono? Allora, parliamo prima di noi. Il vino non può diventare il traguardo, non può essere l'obiettivo. Nel momento in cui lo si voglia far diventare una passione e di conseguenza poi anche un amore della propria vita, una gioia della propria vita, non si può metterlo come un traguardo. Quindi quelli che ci si avvicinano e hanno una sete di conoscenza, quindi vogliono approfondire la conoscenza, in ogni caso devono fare attenzione a non trasformarlo nell'ultimo stadio di questo percorso di conoscenza. Perché? Perché il vino è una forma d'arte e come tutte le forme d'arte sono un mezzo per coltivare la bellezza, per conoscere e coltivare la bellezza. E di conseguenza se noi riusciamo a percepire il vino sotto questa forma, riusciamo anche a comprenderlo molto meglio. Perché? Perché finisce per alimentarci spiritualmente, mentre invece si ha proprio la sensazione qualche volta che le persone che lo considerano l'obiettivo e quindi per esempio comprano le bottiglie perché hanno un certo valore, credono di poter trovare in quel valore anche il risvolto organolettico, cioè le sensazioni che corrispondono a quel valore. Per esempio ti fanno la domanda, ma la qualità di un vino che costa così tanto è possibile paragonarla dal punto di vista del prezzo? Esiste un parallelo, esiste una proporzione di prezzo con... ecco, una affermazione di questo genere ti permette di capire che il vino in quel caso non è il mezzo con cui lui sta coltivando la bellezza, ma è soltanto un traguardo di potere, di controllo e questo probabilmente non aiuta a capire il vino buono. Le persone non si ascoltano. Per me alimentarmi del vino, alimentarmi anche di altre cose, insomma il cibo per esempio, col tempo è diventato un esercizio di scoperta di me, prima di tutto. Ecco, se noi riusciamo a trasferire, spostare l'obiettivo su di noi, improvvisamente il vino diventa molto più interessante. Quando Borges, e qui vengo alla poesia che poi dà il titolo al libro, dice una cosa che mi piace sempre citare, no? E parla della posizione del vino, cioè della collocazione del vino nella nostra vita, nel nostro contesto. Allora, prima naturalmente fa un piccolo quadro storico, no? E immagina una situazione di partenza e poi entra nel valore del vino. Allora noterete come la poesia, questa è una poesia dedicata al vino, la poesia è un modo per coltivare la bellezza. Allora, io che sono innamorato della poesia, coltivando due amori come il vino e la poesia, riesco a tenerli insieme, a usarli come questi mezzi bellissimi per coltivare la conoscenza. Allora, sentite cosa dice. In quale regno o secolo e sotto quale tacita congiunzione di astri, in che giorno segreto, non segnato dal marmo, nacque la fortunata e singolare idea di inventare la gioia? Con autunni dorati fu inventata e il vino fluisce rosso lungo mille generazioni, come il fiume del tempo e nell'arduo cammino ci fa dono di musica, di fuoco e di leoni. Nella notte del giubilo, nell'infausto giorno, esalta l'allegria o attenua la paura. E questo di tirambo nuovo che oggi gli canto, lo intonarono un giorno l'arabo e il persiano. Vino, insegnami come vedere la mia storia, quasi fosse già fatta cenere di memoria. Dice una cosa bellissima, dice nella notte del giubilo, nell'infausto giorno, esalta l'allegria o attenua la paura. Ecco, questa posizione, secondo me, del vino, io la trovo geniale. Cioè, quest'idea che il vino non possa fare di più che esaltare un'allegria che è già presente o attenuare una paura, ma in realtà non riesce a risolvere la situazione. Quindi, proprio l'idea bellissima di, e quindi il sottotesto, è proprio il mezzo per coltivarsi, per conoscersi, per viaggiare dentro se stessi. Io dico sempre che quando ci si avvicina a un bicchiere bisogna stare in silenzio. Io, ci sono dei miei alunni qui, sanno che sono molto severo quando faccio lezione, quando facciamo la degustazione insieme. Ecco, però questo silenzio, questa, chiamiamola severità. Io non voglio che passi per una concentrazione per risolvere un'equazione. Cioè, le persone non devono stare col bicchiere sotto il naso o assaggiare perché pensano di doverci trovare chissà cosa. Ecco, il doverci trovare, questo è l'errore più grave, no? Che cosa si insegna oggi nelle scuole per sommelier? Che ci devi trovare delle cose. Ti fanno un elenco di cose, poi queste cose ce le devi trovare e se non ce le trovi ti senti un imbecille perché gli altri ce le trovano e tu non ce le trovi. Invece, invece di coltivare una cosa molto più profonda, molto più alta, che è la libertà di associazione. Quando io dico alle persone di concentrarsi nel bicchiere e quindi di lasciare fluire il vino dentro se stessi, lui dice come musica, fuoco e leoni, ecco, in quel momento deve navigare, deve vivere dentro di noi una capacità associativa che non viene presa in considerazione. E qui sta l'elemento di soggettività, che è scientifico, è molto più scientifico di qualsiasi tipo di risultato, di media che possa essere presentata alla fine di un assaggio. E allora mi viene in mente un parallelo psicanalitico, no? E cioè mi viene in mente lo psicanalista che sta dietro il lettino ed è sdraiato, il paziente è sdraiato e lo psicanalista, la psicanalista, nel mio caso, la psicanalista, ascolta e non guarda il viso del soggetto. E questa è una cosa molto importante. Io ho chiesto, dottoressa, ma perché a differenza di quello che fanno tante altre scuole, tante altre teorie, poi ha visto in televisione, nel cinema, tutti quanti gli analisti, quasi tutti gli analisti stanno di fronte, no? Salvorare i casi. E lei ha detto perché io non devo reggere il suo sguardo, io non ho bisogno, non voglio neanche reggere il suo sguardo e lei non deve reggere il mio, no? Perché ci vuole questa libertà, no? Dobbiamo guardare oltre, no? E poi ha fatto una pausa e poi mi ha detto e poi devo avere anch'io il diritto di distrarmi. Ecco, questa è stata un'illuminazione per me, no? E cioè mettere il naso nel bicchiere e nel momento in cui tu stai, ti stai dedicando e stai vivendo questo contatto, distrarsi. E di conseguenza nel momento in cui ti distrai, apri una porta che non era mai stata aperta, che questi qui che ci insegnano a bere in questo modo così schematico, non ci insegnano ad aprire. Anzi, per loro è molto più importante che rimanga chiusa, perché così almeno possiamo amare solo le sensazioni che ci sono state già consegnate, già finite. No? Invece la scoperta dei vini naturali e di conseguenza la scoperta della loro assoluta imprevedibilità, della loro difficoltà di classificazione, già il vino di per sé è difficile da classificare, ma ancora di più il vino naturale, mi ha fatto scoprire questa libertà che noi abbiamo, cioè di amare delle cose che non sono state effettivamente prese in considerazione come possibili. Infatti, quando le persone mi chiedono, ma che cosa c'è di nuovo nel vino? No? Quali sono i vini nuovi? No! Ci vogliono persone nuove, nuove dentro, che li assaggiano, questa è la differenza. Bisogna modificare l'approccio, perché se non modifichi l'approccio i vini non cambieranno mai, perché sei tu il primo a chiedere, no? E quindi in qualche modo a esigere magneticamente, anche senza doverlo dichiarare, che il vino sia diverso da come c'è stato invece presentato negli ultimi anni. La tecnica realizzativa nel vigneto, in cantina, è talmente raffinata che i vini oggi sono impeccabili, ma sono vuoti, sono vuoti. Quando qualcuno mi chiede, ma secondo te che cos'è un vino buono? E io gli dico, è un vino che compri, che hai voglia di comprare, che dopo che l'hai assaggiato e hai saputo quanto costa, ti viene voglia di andarla a comprare, ma se i giornalisti, i critici, il mezzo mondo, tutto il mondo, quasi tutti, il vino non lo comprano mai, perché gli viene regalato, gli viene concesso, possono mai immaginare di fare questo gesto? E infatti io lo so quali sono i vini che comprano loro, lo so bene quali sono i vini che comprano loro, e non sono mai quelli che premiano! E allora questo ti fa capire che non c'è più niente da delegare a queste persone, niente da delegare, è tutto su di noi, è tutto sulla nostra responsabilità, siamo noi che possiamo decidere davvero che cosa amiamo profondamente e per scoprirlo dobbiamo avere tre elementi importanti davanti, cioè il vino buono che si chiami Nero d'Avola, Trebbiano, Inzolia, Catarratto, che si chiami Barolo o Prosecco di Valdobbiadene, Brunello, Vernaccia di San Gimignano, Verdicchio, Fiano, Montepulciano d'Abruzzo, San Giovese di Romagna, Marzemino, c'era suolo di Vittoria, perché vedete il vino è tutto uno, è una cosa unica, quando qualcuno dice ma che preferisci il bianco, il rosso, il rosato, mi viene da ridere, no? Mi viene da ridere, è come se tu dicessi che cosa preferisci, l'umanità o la venusianità o la marzianità, che cosa, chi preferisci insomma, no? Il vino è come l'umanità, la devi prendere tutta insieme, no? Poi ci sono naturalmente degli incontri più fortunati, più felici e meno felici, ma non puoi immaginarti di non amare il rosato, soltanto perché magari ci sono il 90% dei produttori che sono dei disgraziati, dei banditi, questo è un altro discorso, ma il rosato è un vino come il rosso, insomma. Allora, ci sono tre cose importanti, la prima è che ogni vino buono possa corrispondere al luogo di appartenenza e per corrispondere, per trasmettere questo, per raccontare questo, ha bisogno di persone che queste cose le ascoltano, non le devono sempre riconoscere, non è così importante, la cosa importante è la disponibilità nell'ascolto di una sensazione del genere, il vino è genio del luogo, non si discute e quindi riuscire a trasmettere questo e per luogo si intende il luogo in cui si fa l'uva, in cui si coltiva la vite, il luogo in cui viene realizzato, anche la cantina è il luogo di realizzazione, quindi il vino deve rappresentare e riassumere tutto questo. E questo è il primo grandissimo elemento e pensate che questo bellissimo triangolo fra il luogo e il vitigno, cioè il luogo è la natura e lo spartito e il vitigno è lo strumento, viene custodito dall'uomo, dalla donna, dalle persone che si occupano del vino. E la restituzione di questo luogo va sopra qualsiasi tipo di riconoscimento, ecco perché per me non ha senso il Merlot, lo Chardonnay, il Sauvignon o altri vitigni che vengono utilizzati come mezzi grimaldelli di carattere commerciale per scardinare il mercato. Ecco questo non ha nessun senso perché lo dimostrano le cose che sono successe anche in Sicilia, soprattutto in Sicilia, dove lo Chardonnay fino a poco tempo il produttore che lo aveva lanciato. Poi il secondo elemento è la sintonia col cibo, più i produttori sono sensibili nel tirare fuori le cose migliori che i vini contengono, maggiore è la sintonia col cibo che questi riescono ad avere. È una questione di misura, di forza, di delicatezza, di carattere, di espressività, non si può discutere che il vino buono debba avere a che fare con il cibo. La capacità di servire la tavola è centrale nella qualità del vino. Quindi bisogna superare questa idea che il vino buono si beve da solo. Si può bere? Certo, uno può fare quello che vuole, può bere un bicchiere, ma pensare che la sua qualità sia proporzionata alla possibilità di essere bevuto da solo è esattamente il contrario della natura stessa del vino. Il vino è stato dall'inizio della sua nascita e ve l'ho detto è una forma d'arte, quindi è un prodotto speciale, non è una bevanda, non è come la birra, ok? Che è una bevanda ripetitiva, ok? Il vino è una bevanda nuova, varia, diversa. E poi il terzo elemento, e ho finito, la digeribilità. Il vino non ha più il potere curativo di una volta, perché la terra non ha più il potere di una volta, bisogna riconoscerlo, no? È vero, la biodinamica lavora proprio per tirare fuori nella terra quella spinta, questa capacità generativa che probabilmente col tempo è stata esaurita, asciugata, prosciugata, inaridita, ma il percorso è ancora lungo. Allora, se proprio non ha un potere curativo, almeno che sia digeribile, cioè che entri dentro di noi e ne esca lasciandoci almeno come stavamo prima di berlo.